Sono Matteo, molti mi conoscono come Matthew Farmer e nella vita faccio contadino. Cerco di coltivare degli ortaggi fantastici per far esprimere al meglio la mia terra. Per chi fa il mio lavoro il rapporto con la cucina è un rapporto essenziale, visto che ogni cosa che andiamo a produrre poi viene trasformata per essere poi mangiata dalle persone. La cosa più fondamentale è avere qualcuno che traduca tutto il lavoro che facciamo noi in campo, tutta la qualità che noi facciamo in campo, in un piatto. La cucina può essere quindi non solo un doversi alimentare, ingurgitare del cibo, dell'energia e delle vitamine, ma può essere anche un linguaggio universale, culturale, con cui noi andiamo a raccontare un territorio e tutto questo va a creare in noi del benessere, lo stare bene. Sono sempre stato un po' arrestio a lavorare con i ristoranti, molte volte c'è una diseducazione, infatti arrivano in campo, ti chiedono un tot, un quantitativo di ortaggi e dopo scompaiono per intere settimane. Questo va a creare uno squilibrio molte volte nella produzione di un'azienda agricola. Quando ho conosciuto Stefano ho capito che il suo approccio alla materia prima era completamente diverso. È venuto in modo umile in campo, mi ha chiesto cosa potevamo dargli, ma soprattutto abbiamo programmato con lui la stagione successiva. Infatti per andare a produrre gli ortaggi che gli sto fornendo, quindi gli ortaggi autunnali, abbiamo cominciato a lavorare insieme ad aprire in tutta una programmazione annua. In tutto questo anche il suo menù si è trasformato e si è adeguato a tutto quello che c'era in orto e con le tempistiche che ha la natura. Memory della grossa ricchezza che io sono riuscito a dare a Stefano, ma Stefano è riuscito a dare a me. Anche nel rivalutare certi ortaggi abbiamo cominciato a cercare nuovi chef con i quali condividere questo percorso e che avessero la nostra stessa passione e interesse, ma soprattutto amore per la terra e per gli ortaggi. In particolare quello che è cambiato di più nel rapporto campo-cucina è stato tutto il mondo attorno allo spreco alimentare. Provo a spiegarmi meglio. Quando andiamo a raccogliere un ortaggio da dare a uno chef o a un cliente, andiamo a buttare un insieme di foglie, di parti di quell'ortaggio che sono molto buone da mangiare, ma purtroppo per diseducazione il cliente non li vuole. Riuscire ad avere un rapporto genuino e bilanciato anche con la cucina vuol dire andare a capire come andare a valorizzare, cucinare quelle parti che verrebbero scartate normalmente andando a fare piatti incredibili, gustosi, ma soprattutto salutari. Una delle cose che mi ha stupito quando ho conosciuto questo campo è di capire realmente quanto è grande una verdura e quanto viene scartato abitualmente dai commercianti perché devono farti riabare per forza questo, che è molto buono, ma qui hai un sapore più delicato e tutto il sapore più importante sale qua. E perché devo buttarlo quando ci posso fare mille cose con questo? Stai sfondando una porta tarta? Il Garum è quello. Il Garum per me è stata una grandissima riscoperta, infatti è una tecnica che veniva utilizzata dai romani per conservare e valorizzare al meglio gli scarti. Proprio per questo ogni volta che sento gli chef raccontarlo è sempre un'emozione. Chiamiamo scarto quello che in realtà non ha ovvie applicazioni. Ad esempio, faccio sempre l'esempio di una patata. Una patata appena la peli, appena la peli le bucce sono scarto, ma perché? Semplicemente perché non sappiamo cosa farci. E la stessa cosa è stata di riuscire a trovare quindi un'applicazione, trovare un'idea per ovviamente cambiargli la forma, cambiargli l'aspetto perché nessuno vuole mangiare le bucce di una patata, ma riuscire poi a trasformarle in un prodotto che possa essere di facile utilizzo e facile impiego in modo tale appunto da riuscire a utilizzarlo. Appunto nel campo delle verdure prendiamo tutto quello che sono, ad esempio le carote, quando si spaccano da una carota che un attimo fa era buona, spaccata, la buttiamo via. Diciamo, ma non è possibile, infatti nel supermercato non trovi mai carote rotte. Quello che facciamo in Garon Project, quando facciamo il garon di verdure, è compriamo le carote rotte. In sostanza che facciamo è un metodo fermentativo che riesce a trasformare una materia prima da solida a liquida e il risultato è l'essenza del suo gusto, in più hai i microbi che riescono a creare delle componenti di nutraceutica e quindi tutto un discorso di vitamine, probiotica, prebiotica in un prodotto che ha una scadenza di più di due anni. Quindi anche quando è aperta la bottiglia, non pastorizzato, apri la bottiglia, usi un paio di porzioni, la chiudi di nuovo, la rimetti non in frigorifero ma in dispensa e quella comunque scade tra due anni. E poi di facile utilizzo, insomma, come usa Stefano, lo metti un po' ovunque, cioè spadelli due zucchine, da una verdura che insomma non è la più sexy al mondo, diventa qualcosa che poi è goloso. Quella è un po' l'idea alla base di Garon Project. E infatti lo chiamiamo Garon non tanto perché lo facciamo come lo facevano gli antichi romani, ma perché i romani pensavano che nei Garon ci fossero tre cose principalmente, uno un gusto incredibile e quindi lo mettevano ovunque in qualsiasi cibo. Due, davano un'importanza da un punto di vista nutrizionale, addirittura nutraceutico, quindi medico, quando c'erano, non so, in certi libri di Apicio e altri, c'era scritto che quando avevi, non so, mal di pancia e dovevi mangiarti questo tipo di Garon. Più erano capaci di utilizzare il loro sistema alimentare, che ovviamente non aveva la catena del freddo e il resto e quindi trovare in tutto quello che erano i pesci, perché lo facevano solo di pesce, delle applicazioni, quindi usavano il sangue del tonno, usavano tutto il pesce che era, per esempio, non so, gli sgombri che sono troppo, sai, non sopravvivono a due ore a temperatura ambiente, li trasformavano in Garon e quello è quello che facciamo anche noi, quindi cercare un modo per utilizzare meglio tutto quello che viene prodotto nel nostro sistema alimentare, di cui un buon 60% è scarto, avere qualcosa che da un punto di vista salutare sia meglio, quindi i nostri Garon possono essere usati come insaporitore, ma in realtà da un punto di vista di vitamina e il resto sono integratori alimentari, però semplicemente buoni, non in forma di pastiglia, roba strana e poi l'ultimo punto che è sempre più importante è fare qualcosa di estremamente buono, quindi un dado da cucina, salutare, sostenibile e più buono. Quindi per andare a rivalorizzare tutti gli scarti il Garon è la strada migliore. Fira un po' troppo dolce, fira un po' troppo dolce, fai fare la panina in generale un po' più piccola forse, no? No, io l'ho lasciato molto secco sotto, eh? Ah, perché ci vai di un'altra copertà, eh? Eh, però vedi che c'è ancora di un'altra copertà, ecco, facciamo due quenelle, piccole distese, piccole distese. E ci sta, eh? Buono. No, la mia cosa? Cioè, avendolo fatto a distanza di 200 km, si lavora. La prima cosa che faccio quando passa a trovarmi uno chef è andare con lui in campo e mostrargli l'orto. Vi faccio vedere un pochino quello che stiamo facendo con Stefano. Allora, abbiamo l'ultima, diciamo, l'ultima coda della stagione con le melanzane, i frigitelli e le zucchine. Zucchine in particolare facciamo un ciclo molto veloce. In una stagione che per noi va da aprile, tendenzialmente a settembre, in verità arriviamo a novembre, facciamo quattro trapianti, quindi le tiriamo su e le ritrapiantiamo. Questo perché preferiamo avere la zucchina giovane un attimino, un meno più croccante, non quella un po' più grossa che non piace. Vedo che i nostri clienti apprezzano di più. È un pochino più menatoso per noi, però così fai molti meno trattamenti. Noi stiamo andando tutto in modo totalmente naturale, superiamo il biologico e quindi devi stare un po' attento e soprattutto continuiamo a cambiare il terreno dove le mettiamo. Quindi prima erano dove c'erano i cavoli, ora sono qua. Là ci sono le altre, là ci sono le altre, in modo tale che non stressiamo tanto il terreno. L'idea è stimolare al massimo il terreno, un po' quello che fai tu. In stoccaggio noi cerchiamo di muovere tanto anche con continua fermentazione anche il terreno. Quindi dopo ti faccio vedere il letame che stiamo facendo una serie di esperimenti per dopo portarlo. Quindi qua Stefano si è già palpato un po' di radicchi che stanno già andando. Questi qua sono i suoi finocchi, sia maschi che femmina, quindi utilizziamo tutte e due le parti. Il maschio è un pochino più filamentoso, viene usato cotto, la femmina è quella che mangia un attimino più cruda. Lo stiamo usando tutto, comprese anche le radici che, insomma, ci stanno dando soddisfazioni. Specialmente quelle anche. Specialmente qui. Sono la sorpresa. No, la radice non l'avevo mai assaggiata e comunque quando, specialmente adesso che sono ancora un po' acerbi, ti ricorda lo zenzero e la carota. E quindi ho pronto ad assaggiare crude, cotte, marinate. Alla fine è ancora meglio cruda. Cioè ho appena sbolentata, faccio una tartarina, togli il filamento esterno e lo metti poi sopra sul piatto. Poi avendo chi valorizza così tanto le radici possiamo permetterci di lavorare meglio nella terra, farle scendere di più, quindi è fittone, con radice un attimino più grossa perché non dobbiamo mettere solo la parte centrale, ingrassarla e quindi siamo un pochino più facilitati in questo. Siamo molto indietro che i cavoli quest'anno perché il freddo non arriva, quindi questi qua sono, li ho intestati i cavolfiori che incominciano a esserci. In un anno facciamo più o meno 100 varietà di giro. Attualmente ora ci sono, se non sbaglio, 10 varietà di cavoli. Già qua è la verza rossa. Prezzemolo, questo qua è il gigante, l'abbiamo quello un pochino più piccolo. Sì, però fino a ottobre. L'anno scorso ha resistito tutto l'anno, il prezzemolo. Gli hanno messo solo un telo TNT, è andata. Ti senti che riesce a roba diversa? Facciamo un giro dell'acqua così ti faccio vedere le tue romane. Che profumo che c'è il prezzemolo. Qua sentivo proprio, senti la differenza da noi, da noi il prezzemolo, cioè via in su ma non sa da niente. Sì? E manca sole. Allora qua abbiamo le romane di Stefano che ci ha messo un pochino in difficoltà, devo dire. Era il primo anno che le coltivavamo. Ci siamo accorti che praticamente c'è un vermicello che fa questa questa cosa qua. Ma ci siamo accorti che ce l'abbiamo di qua e non di là. Quindi molto probabilmente i cetrioli hanno passato qualcosa o il mio dubbio perché non le abbiamo ancora sgamate, ma prima o poi le sgamo la notte perché c'è a venire alla notte a vedere. Amare vuol dire beccare, cioè trovarle e credo che sia la cavolaia. Quest'anno stiamo facendo un pochino più fatica con i cavoli. Di là non le abbiamo così attaccate ai cavoli. Probabilmente la cavolaia. Ora, vabbè, Stefano le va comunque a utilizzare in ogni modo. La parte più bella, la più di là. Questa foglia qua io tolgo, tolgo questo e la faccio seccare, faccio la polvere per insaporire poi il piatto. Comunque dà soddisfazione questa. E sta andando molto, anche perché la puoi mangiare comunque sia cruda che scottata. Era una varietà che non avevamo mai usato, invece... Ma questa reagisce anche al freddo? Cioè, devi raccoglierla adesso. Te lo so dire, però un attimo. No, anche perché il problema più grosso. Il sapore sembra una di quelle che magari tiene anche al ghiaccio. Sono gli sbalzi di temperatura. Due giorni fa avevamo 32 gradi qua. Quindi passare da 32 a passare a 10 gradi sono 20 gradi a volte che danno un po' fastidio. Questo qua è tutto al lato, invece è sempre articolo. Questo qua è un... dovrebbe essere una cicoria, che non mi ricordo quale. Dovrebbe essere... No, questo qua è un radicchio. è quello variegato. Che queste qua dovrebbero essere erbette, perché dopo non me le ricordo tutte. perché c'è tutto il fascicolo scritto. La bietta questa, no? Sì, esatto. Questa qua... no, deve essere... la bietta è di là. Questo qua è un altro radicchio che stiamo sperimentando, infatti ne abbiamo poco. Sì, perché dovrebbe andare dopo tutta rossa. Eh sì, sì, sembra che sta facendo il cuore. Perché è tipo un pan di zucchero, però non è così dolce, perché cerchiamo sempre di giocare un po' tra il dolce e l'amaro e di qualcosa che riesca a tenere insieme tutte e due. E quindi ce ne sono tanti. Buona questa. Buonissimo. Ti piace? Sì. Cioè, sentito che ho un attimino. Fotonico, eh? Questo ancora no. Sì, tassa. Cioè, non ha da radicchio all'inizio ha questo effetto quasi speziato, tipo. Adesso ho qualcosa in mente e quando mi viene in mente te lo dico. Beh, vai, tu mangia che... Eh sì. Non trattenerti. Ma figo, sì. Cosa ti sembra? Sì, soprattutto all'inizio. E poi finisce da radicchio, però è molto interessante all'inizio. Stiamo facendo un grosso lavoro con... Guarda qualche cosa particolare, ma tipo glu vine o robe così. No, no, no. C'è cosa inizia, c'è cosa inizia e poi il tuo gusto invece è più verde e come sapore. Sì, poi c'è da radicchio. Fai conto che fra dieci giorni sarà un altro gusto ancora. Lo stiamo notando tanto sui cavoli, sui radicchi. Stanno cambiando tantissimo il sapore e devo dirti che è molto anche stimolante quest'anno perché è già il secondo anno dove abbiamo temperature sparate, cioè a caso veramente. E quindi è continuamente una nuova scoperta e ci lavori. Ti faccio vedere anche... Beh, questo qua è tutto il lato di insalate. Queste qua sono circa un attimino più veloce, anche perché stiamo facendo... Vedi? Balletto. No, un po' più fatica con l'insalate perché tendono a montare a fiore proprio per gli sbalzi di temperatura che stanno avendo. Infatti queste qua stiamo usando le altre perché non sono molto belle. Se tu le senti, tendono ad essere un attimino più dure. Più legnose, sì. Un po' più legnose. Purtroppo quello è dato dal cambiamento, però ci sta, botti via... Ma queste le riesci a vendere, le dice. Le riesci a vendere. Il problema qual è? Che devi proprio prenderle così. È un peccato perché un'insalata del genere dovrebbe farti almeno il doppio. E comunque già così è già legnosa, quindi siamo già lì al pelo. Abbiamo una clentela che trattiamo molto, ma molto bene e quindi... Devi stare attento. Qualcosa, cioè, visto che l'abbiamo le altre. C'è quasi da lupolo alla fine. Qua, ora siamo a fine ciclo dei pomodori, come vedi, sono ancora in fiore. Sì, sì, anche da noi c'è roba stranissima. Io non so che cosa dire, però c'erano 15 varietà di pomodori quest'anno, quindi 4 non le terremo più. Perché si adattano male, ne andremo a inserire altre 4. Quindi ogni anno teniamo di solito, oltre alle nostre storiche, sempre quelle 2. L'obiettivo nel giro di, spero, 2 anni è riuscire a lavorare con le università. Quindi il fatto che tu hai dei bandi di ricerca ti apre la possibilità anche di poterti permettere di spendere di più in semente e fare delle vere e proprie prove. Perché ci sono tante varietà che possono essere anche ibridate in modo naturale e si salvano. Ecco, la scelta, siamo contro gli OGM, ma non per un fatto di salute. Cioè io non credo che ti venga qualche tumore strano. Il problema è che tolgono la biodiversità. Cioè metti un qualcosa di standardizzato, di iperforte, in un territorio, ammazza tutto il resto. E soprattutto lo stesso seme non può andare bene a noi e negli Stati Uniti con climi diversi, ma o da noi in Sicilia. Preferisco avere delle sementi che si adattano meglio. Sì, quello che mi piacerebbe anche a me poter portare avanti come sviluppo è quello proprio di tornare ad avere un'agricoltura con realmente degli ortaggi, delle verdure che sono del territorio. Che si possono notare al territorio e che magari possono essere anche riscoperte. Questa è una cosa che mi affascina veramente tanto. Ora lì abbiamo la Rappanavona, che te lo faccio vedere, il sotto è uscito bene, il sopra siamo stati toccati dalle temperature. La Rappanavona è spettacolare, stasera la assaggerete. Cioè se vedi queste qua sono le temperature, ci hanno bruciato praticamente la parte aerea. Ci sta, non c'è da vergognarsene, andiamo a fare un po' di pulizia. Queste qua in verità, quelle che mangiate credo stasera, sono quelle di là che prendiamo più la parte di cuore. Tanto noi dopo diamo tutto alle pecore che ce le ridanno, quindi non è un problema per noi. Però insomma, e sono queste. Quella che c'è per i crauti. Esatto. Questa qua è la Navone. È una Rappanavona molto particolare. Qua la descrivi te perché io... Adoro, me la assaggeranno stasera. Ha un sacco veramente di gusti. Anche questa qua si stava un po' perdendo, la stiamo un pochino rilanciando. La fatela vista. Erano le rape vecchie che mangiavano i nostri nonni che trovavano nei campi, sostanzialmente. Solo che sono molto pungenti e quindi o c'è qualcuno che... Piccantine proprio. Ma anche... Se le fai cuocere a seconda del tempo di cottura, più avanti più diventano dolci. La prima sa che le aveva... Mio nonno quando ero piccolo, giù nell'orto, le chiamano il sacco. Perché le trovavi nel campo. Erano le rape della guerra queste. Cioè io mi ricordo mia nonna... Sono super piccante. Sono quasi raffanati. Che ne parlava. Sì, vero che... Non volevo dargli una grattata. Si sta che tuo nonno ce l'avesse perché erano proprio... Sì, ma mi ricordo mia nonna le cucinavo a microonde tipo. Ok. Cioè ignorantissima con l'olio e... Olio, un po' di pepe, un po' di sale. Mi colore con la pellicola proprio davvero a 10 minuti così. Sì, infatti sì, proprio è piccante. Sì, sì. Però è bello riscoprire. Sì, se la qui raffano tipo, è proprio buona. Cioè ovvio non la usi come una rapa che non sa di niente da mangiare intera. La usi più come... Perché le stiamo abbinando tanto quando le diamo alla clientela con il... Si dà una rapa. Scusa, è il cavolo a rapa, scusami. Quello è il cavolo a rapa. Esatto. Perché quello lì è già un po' addomesticato a crudo. Qua da crudo, se non sei molto ma molto bravo... Quello è buonissimo lato fermentato. Ma non ti sembra che si avvicina molto ai quelli che avevano sotto noi. A Reuben? Però questo è un po' più selvatico, tipo un po' meno... Questa qua è proprio selvatica. Questa qua la stanno dando tanto agli animali. Qua la trovi nella bassa, la coltivano come integrazione agli animali perché sono delle botte, vitaminiche, pazzesche. E gli animali la adorano. Cioè, a furia di dargli il trinciato che... Proprio uno schifo. Quando gli dai questa roba, volano. Infatti, ora, guarda. Ti faccio vedere quando la do le pecore. Che incominciano a volare. Comunque, cavolo, rapa, se vuoi il lato fermentare qualcosa, quella è super. Perché non ha un grande residuo zitterino. Ok. E quindi, praticamente, quando tu metti lo 0,75% di sale, metti in un vaso sotto vuoto, la sui fermentare naturalmente e si ferma, che è proprio piacevole. Non è troppo acido, non è troppo... Rimane bello croccante. Guardate, vi faccio vedere i primi... Scusa. Cavolfiori. Cavolfiori. Che belli. Sono proprio bellini. Li stiamo già mangiando. Li abbiamo sia viola che quelli gialli, che quelli bianchi. Il giallo è molto più dolce, il viola non ho ancora assaggiato. Ve lo saprò dire. Questo lo conosco. Questo qua è cavolo. Questo qua è l'altra linea ancora di cavolo. Stiamo avendo dei buoni risultati con pomodori e verzo attaccati. Perché? Non lo so. Non ne ho idea. Questo qua era l'altro giro che avevamo di citrioli. perché anche qua facciamo un continuamente giro e cicli nuovi. L'anno prossimo teniamo anche noi i cetrolini, quelli angura, piccolini. I piccoletti. Che sono molto buoni. Ve lo so bene? Li ho assaggiati. Mi dai un po' di semi? Va bene. La collaborazione tra contadini e territorio. Ebbè è giusto così. La zucca. Questo qua abbiamo, questo è il campo di prove delle zucche perché le avevamo nell'altro terreno le zucche che stai mangiando. Sono una serie di prove anche se noi la delica è quella che piace di più. L'hokkaido era veramente buona. L'hokkaido, la conosci? E' quella che mangi con la buccia. Quest'anno però è stata difficile perché sbalzi di temperatura. Ci puoi ancora presto? No vabbè l'hokkaido già da agosto la mangi. Beh, con le sue notte noi facevamo anche a Gardio stavane fa. Le prime buone erano la settimana scorsa. Ah, noi abbiamo avuto il problema che col caldo è andato... Deperivano più facilmente. Ne abbiamo fatte di meno. Ma sono ben delicate come zucco. Friggitello, quindi non picchia. Friggitello pazzesco. Sì, questi qua funzionano bene. Queste qua, ora, dovremmo partire a fare le prime fermentazioni. Quindi provarli a tenere separati. Abbiamo preso i raspi dall'uva che ora si stanno mangiando le pecore per fare alcune prove e vedere se riuscivamo a usare tutti i lieviti autotoni. Il mostro è finito a Stefano. Essendo in Franciacorta, avendo personalmente una grande passione per i vini, stiamo coltivando la vita nei nostri vigneti. Proprio per questo, alla richiesta di Stefano di andare a trovare qualcosa che potesse addolcire un suo piatto, gli abbiamo proposto il nostro mostro d'uva. Andiamo a prelevare un po' di mostro non ancora fermentato e non ancora rimontato sulle bucce, quindi è veramente molto puro. Andiamo a filtrarlo leggermente con un colino per eliminare tutta la parte di buccia. Vedi che è ancora molto rosa, proprio perché non ho ancora preso colore. E poi se guardi gli acidi molto sani, questo è già un bellissimo indice che ti fa capire un'uva di qualità. Questo cosa fai? Spiega un po' il procedimento. Andiamo subito ad abbatterlo per evitare di farlo fermentare, non deve passare di unicida in temperatura. e lo conserverò a meno 20 gravi. Dopodiché troverò una salsa in riduzione, quindi ancora con i zuccheri all'interno, diventerà una salsa semi caramellata che andrà a condivere un petto d'anatra e delle verdure di un amico che sta riprendendo. È una salsa che faccio da tanti anni, ma un profumo così non l'ho mai sentito, quindi sono stra-curioso di dare la salta al cuore. Siamo addosso a 300 metri da due colombe perché dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo esaltare al massimo le cose pazzescamente buone e belle che abbiamo e dobbiamo stare insieme e lavorare insieme per un futuro migliore e una cucina migliore. Quindi usiamo tutte le varie parti, abbiamo ritirato tutti i raspi e provato a fermentare, ma dobbiamo fare ancora un attimino di prove perché... Ma fai qualche sorta di inoculo o lo lascia semplicemente lì? Allora, l'idea era provare a fare qualche inoculo perché stavamo usando dei funghi, che poi non so se sono proprio funghi, però credo che siano funghi, proprio per l'agricoltura, già delle famiglie. Però per fare una roba giusta dovresti avere un sistema di analisi abbastanza serrato, è uno step che abbiamo bisogno di un'università. E' meglio che quando passi dalle nostre parti dovresti prendere un po' di quello che scartiamo dei garum, che sono un inoculo enzimatico molto attivo. Sì, più che altro è capire poi qual è il meccanismo perché ti capita un anno che ti parte benissimo. Ora abbiamo fatto una prova. Il vero è distanza quello, se tu inoculi parte è sicuro, no? Certo. E però sai esattamente che cosa è e che cosa ti fa nel terreno? No, te lo so dire cosa fa in generale, soprattutto nel cibo, però i processi microbiologici sono analoghi. Quello che fa principalmente sono enzimi, sono altissime concentrazioni di enzimi, quindi tutto quello che è il discorso appunto di prendere materie prime complesse, quindi la melanzana, riesce a digerirla, a trasformartela in substrato, insomma che puoi usare appunto ha alto potenziale energetico perché ovviamente è tutto reso biodisponibile per poi le radici e il resto. È da vedere appunto poi quando lo metti nel campo come utilizzarlo, quanto utilizzarne, perché poi quello rimane attivo e quindi ovviamente andrà a dare una mano alle radici che sono rimaste morte nel terreno a rigenerarsi, insomma. No, quello è interessante perché quest'anno insomma è stata complessa gestire la terra perché noi siamo su suolo comunque argilloso, quindi vuol dire se piove tanto e dopo asciuga fa proprio le crepe, quindi comunque devi tenerlo. Le carote erano brutte. No, le carote erano tonde, perché non riuscivano a andare giù. Perché è stato il periodo di maggio che ha fatto le piogge. Però io un sapore, non so come erano gli anni prima, quel sapore di quest'anno delle carote era concentratissimo. Era un po' più buone l'anno scorso. Era più buone ancora l'anno scorso, pensate. Sì, perché comunque vanno storte e comunque vanno un minimo di sofferenza, perché comunque se riescono a scendere ci sono comunque più sostanze nutritive, quindi erano leggermente meglio, dobbiamo metterci un attimino la testa e che a volte fa un po' fatica proprio per il tempo. Pecore, le ossante, pecore più piccole al mondo. Ciao Boris. Con poco spazio riusciamo a tenerle, non amano per forza andare al pascolo distese e questa è la parte adulta, cioè selatoso sono 22 kg un cane. Quindi mangiano di meno, però una balla di fieno la fanno fuori in due mesi e dopo noi abbiamo tutto lo scarto che li forniamo e basta. loro si moltiplicano, le femmine le teniamo e gli ho messo il pallone perché Boris deve incornare qualcosa e allora ogni tanto si mette lì a prendere, gli ritorna e allora lui riparte. Vi faccio vedere l'ultimo giro, questo qua sarà la parte dell'orto che ci accompagna sino a marzo, aprile più o meno. non fa neanche odore, senti tu. Quindi invece che hanno su da noi al mercato, puzzano? Allora, ferma, ora, lui non puzza tantissimo perché non è ancora in calore, quando è in calore senti le folate. Sì. Gli ormoni sono gli ormoni. Vedi queste qua sono delle spontanee che non abbiamo ancora incominciato e capito come giostrarla perché avevamo messo un sovescio qua e devo, questa è colpa mia, deve venire la Valeria Mosca e devo tenerla qua due giorni perché abbiamo qua qualcosina e non è nostro ma lo prendiamo comunque di foraging e dopo abbiamo l'altro campo dove ci sono gli asini perché ci sono delle robe buone ma ci vuole ancora un attimo perché, insomma, non posso... C'è il libro? No. E Valeria te lo devo portare una volta a mangiare perché è fuori di testa lei. Ah, quella del foraging. Queste qua le porteremo coi cavoli sino a marzo più o meno perché dopo vogliamo già provare a fare i trapianti a febbraio, quest'anno in serra, perché tanto fa caldo. L'anno scorso noi avevamo 12 gradi a gennaio. Sì. È tantissimo, quindi non ci lamentiamo, proviamo a prendere un po' tutta la parte, si può dire, positiva e via. Queste qua sono, questo qua è un nuovo finocchio che ci hanno portato e stiamo facendo un po' le prove. Infatti se vedi un po' le cose a caso, questo qua è un altro variegato ancora che è diverso dall'altro perché è tutta la foglia più rossiccia come radicchio. è simile all'altro perché vedi, il lignaggio è simile però un po' più chiaro per vedere le amarezze. Però anche sulle amarezze dobbiamo capire la base qual è e la concimazione quanto cambia perché anche la concimazione cambia. E quindi stiamo facendo un po' di sperimentazioni per... È l'altra più interessante. Sfurtiamo tanto anche Stefano perché tante robe non le sentiamo per noi sono, non dico piatte, però... C'è il lato interessante. Tra l'altro mi hanno detto, ho beccato un vecchio l'altro giorno dalle nostre parti che diceva, ma sai perché si chiamano radicchi? Perché radici in Veneto vuol dire radice. Una volta i radici mangiavi la radice, era la parte più buona, tanto che se tu pensi il radicchio di solito te lo fanno a punta e la parte sotto la cucini. Allora vogliamo andare a tirare su qualche radice e incominciarla a tastare e capire perché il radicchio butti via troppo. Cioè da una balla grossa tiri fuori pochissimo. È un peccato. Noi servivamo già da due anni il culo del radicchio, non chiamiamolo così, però è appunto la parte da radice del treviso fine, quello tardivo. Cioè è molto più buono delle punte. Sì, decisamente. Ma proprio la parte sotto, sai quello che di solito tagli via. Noi facevamo un piatto sulle salate, sui primi, che erano solo le punte e poi come secondo sempre alla parte sotto. Noi stiamo facendo tanto questo meccanismo. Stefano ci ha dato il via libera con la radice, la parte superiore. Fa il video, spiega tutto. Intanto ora stiamo regalando la parte superiore. Incominciate a provarlo perché più riesci a fare cultura, più quello che dicevo il ruolo dell'alta ristorazione. Alla fine che cos'è? È trovare la quadra, un po' aiutare anche a spiegare come cucinarla, come valorizzarla e dopo tutto il popolo riesce un attimino più a seguirle e rifarla diventare un po' più pop e facile. Sì, ma poi secondo me è fondamentale anche un ritorno al fatto di apprezzare ogni parte dell'ortaggio. Cioè i finocchi sono abituati a comprare la vaschettina, quella con tutto tagliato che poi sono legnosi e sanno di poco e io per primo mi sono stupito quando ho assaggiato per la prima volta le radici e la parte sopra e ti rendi conto di quanto sapore vai a buttare oltre che di roba buona da mangiare e alla fine il piatto che è uscito da questo finocchio si chiama finocchio concentrazione di finocchio cioè l'unico ingrediente aggiunto è un filo d'olio e il garum ovviamente questo è giusto non vado ad aggiungere nient'altro perché non ti serve anzi se vai ad aggiungere perdi quella magia secondo me che hai quando senti questi profumi di anice di liquirizia che sì le puoi immaginare su un finocchio ma qui assaggiando queste folie li senti ti senti e ti entrano proprio nel palato qua dentro ti faccio vedere cosa abbiamo fatto praticamente qua tu è dei miscugli di rafano questo qua è un sovescio se tu vuoi vedere questa qua è la cimice del cavolo è maledetta perché praticamente mangia il cavolo e lo va a necrotizzare allora noi stiamo tenendo provando a lasciare queste foglie qua in mezzo che sono dei sovesci si vanno a concentrare qua e mi lasciano stare i cavoli doveva funzionare 20 giorni fa che arrivava il freddo e dopo le stancava non è ancora arrivato però diciamo che è brutto da vedersi però l'effetto lo stiamo un minimo trovando ecco il caldo esatto stanno bene si moltiplicano questo qua è il pan zucchero che ho dato a Stefano stamattina ora noi le stiamo usando come sovescio tutte queste foglie però vedi tutte queste foglie comunque sono sono scarto quindi capisci che sull'invernale vespa ce n'è comunque un bel po' questa qua da qua tu tiri fuori la parte Stefano è veramente bravo però comunque qualcosa devi riuscire a togliere 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 30-40% di scarto così questo è pazzesco questo qua è la parte è la parte dolce è quello che ti amo dolce perché non tutti gradiscono il l'amaro quando fai il radicino lo fai rosso e bianco ci faccio un risotto con i porcini io con questa però la metto a crudo metto sotto con le parte picoriacee faccio una crorofilla e poi faccio una julienne della parte interna e la metti su porcino crudo crema di gambo di porcino e poi ci metto sopra il risotto e te la mangi ancora cruda ti dà una freschezza nel piatto che è molto importante questa la porto a casa sì sì vai ciappa tanto dopo stasera la staggia perché vedi questo qua è quello che dovrebbe un po' più grosso arrivare al supermercato sì sì che li vedi nudi sì però ora sì sì ecco questo è questo qua è pulito questo qua dove ho Stefano questa cosa che mi fa incazzare io appena ho visto come sto a vedere le sue verdure ma scusa ma quelle che mi arrivano dal vecchio fornitore dov'è tutto il resto una delle cose che mi ha mi ha stupito quando ho conosciuto questo campo è di capire realmente quanto è grande una verdura quanto viene scartato abitualmente dai commercianti perché devono farti riavare per forza questo che è molto buono ma qui hai un sapore più delicato tutto il sapore più importante sarà qua e perché devo buttarlo quando ci posso fare mille cose con questo stai sfondando una porta tarta il garum è quello il problema più grosso che abbiamo sullo scarto è che non ne ho tutto subito l'ho in modo costante ogni giorno quindi sarebbe interessante appunto capirla per riuscire perché dopo non so cioè se ti serve e in che stato ti serve capito se deve essere già in macerazione cioè se io lascio la foglia così no no cioè fermentare fresco esatto dopo un giorno già incomincia un attimino però ora se tu guardi questa foglia la puoi usare solo molla sì solo un po' più mollina ma alla fine c'è ancora solo che giustamente la rendiamo liquida quindi capisco anche la ristorazione che non è che posso dirgli metti 20 celle frigorifere perché quando arrivo io ti porto 50 cassette quando appunto mia papà portano pensavo che avevano 4 cassettine arriva a 25 e perché dopo se a lui servono 10 cuori portargli tutto diventa un attimo più grosso abbiamo trovato gli asimi però trovare il garum che può ancora valorizzare ancora di più è meglio e dobbiamo cominciare a produrlo però veramente guarda cioè fa fa impressione questa qua è un'altra varietà ancora questa qua è quella e non scrocchiano ancora cioè gli manca ancora un attimino è per quello che ci sono incredibili queste qua è sempre un tipo di radicchia anche questa stimolare il terreno stimolare il terreno stimolare il terreno e continuare qua facciamo tre trapianti di fila belli compatti si chiama bio intensivo ho sentito sì perché praticamente sotto qua ora mi fa la palla e se tu vuoi vedere non ho infestanti quindi vuol dire che non devo andare a ritoccare il terreno qua non ho usato niente di concime di additivi e quindi cioè vedi qualcosina spunta però è poca roba quello che sta facendo tanto quest'anno è questo ti faccio vedere che è il difetto marcisce per il caldo certo incomincia a fare marciume e ho l'attacco degli afidi dove c'è il marciume arrivano gli afidi che sono vedi questa qua finisce alle pecore che loro tanto ne frega niente però incominci ciao a loro sono vedi le biete queste qua sono state toccate un attimino di meno e con le lumache cosa fai? devo dire che non abbiamo problemi di grossi di lumache infatti questa è la prima che vedo che comincia che c'è una cosa beccata dopo guardami usare tanto ora le stiamo lasciando a differenza magari del cavolo delle insalatine che qua le abbiamo pulite di più qua stiamo proprio lasciando le file un attimino più bustate in modo tale che tutte le lumache si fermano poi se tu lavori tanto il terreno devono arrivare tanto dall'esterno però è proprio più la gestione che continui a avere che è abbastanza buona qualcosa arriva perché guarda infatti vedevo anche quella lì qualcosa ci sta però oddio in campo se ne perdi anche qualche d'una e sti cavoli ci sta ci sta cioè ora il prezzo della vittoria eccolo esatto queste qua sono quelle dopo di Stefano che però ora sono ancora al momento molto 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 giovane perché queste qua arriveranno credo è Natale Natale sì più o meno forse Natale però c'è a vedere le temperature scusami il radicchio tardivo fine esatto perché dopo dobbiamo partire prima gli altri ti dico le abbiamo messi sotto l'albero perché faceva troppo caldo anche stamattina quando te lo portate erano pieni di latticello perché l'insalata dopo io la chiamo insalata però è una cicoria deve lasciarti il latticello è proprio il suo sangue e quindi fa proprio la differenza sì decisamente ma cos'è che fai col bootcamp l'idea e io spero di riuscirla a fare è riuscire a fare proprio delle giornate anche per chef in un solo dove riesco a avere Stefano che si mette lì cucina cioè raccoglie trasforma cucina ma qua proprio dici? o qua o lì ora dovremmo fare ma video o che viene gente in persona? vorrei proprio la gente in persona ah ok dopo facciamo anche il video perché è importante sì sì certo però intanto però l'importanza di avere la gente qua è fondamentale perché capisci e soprattutto quello che a me serve e sta diventando essenziale con la figura di Stefano è che viene in campo e mi dice ah buona questo 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 io non li sento certi gusti e quindi so su che note un mino spinger quindi riuscire a fare una concimazione liquida mi aiuta tipo sui finocchi buona questo lato di liquirizia dove lo faccio sentire aspetta senti sto concime liquido ah non puoi assaggiare però no 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 vengalo la cazzo è buono queste qua sono alghe è un concime liquido e questo qua va a stimolare le radici lo sta dando ai finocchi ora che è controintuitivo dagli ora il concime perché voglio vedere quei finocchi là quelli dell'esperimento se spingono un attimino più sulla liquirizia per arrivarti a dire sono riuscito a dargli un attimino di più di liquirizia perché se gli è piaciuta così tanto la liquirizia proviamo a vedere se riuscire a fare lo stesso è bello però anche tramite la concimazione riuscire ad accentuare parti aromatiche determinati voltaggi quello lo fai quindi sono tutti strumenti che insomma c'è da prendersi un po' di tempo però stiamo facendo dopo stiamo costruendola da zero sto fattoria perché io avevo zero metri quadri e quindi sto costruendo io tutto con tutte le difficoltà che ci sono date ai comuni che sono sempre favorevoli a avere qua le esperienze del genere cioè proprio il caspio però insomma quindi riuscire a raccontare sempre di più è per noi importante ma quanti metri sono questi? questo qua è un ettaro sono 9800 metri un ettaro di cui coltivati? l'orto quest'anno è più di metà dovrebbero essere se non sbaglio 6.000 però producono molto di più perché stiamo usando il biointensivo quindi è tutto molto fitto quindi è molto produttivo è difficile paragonarlo con un terreno normale rispetto a un orto classico 6.000 metri quadri fanno come 8.000 metri quadri e ne tiriamo fuori secondo me di produzione non l'ho mai pesata però la settimana non so faremo 350 kg di roba circa ma hai qualche testo su quale ti basi tipo di agricoltura rigenerativa o di sinergia noi stiamo usando tanto ci siamo accorti che le etichette non funzionano molto e non funzionano nulla ci piace alcuni principi della rigenerativa che comunque è il nostro focus ci siamo però accorti più andiamo avanti che c'è da rifare quello che facciano i nostri nonni e so che sembra una roba che dicono tutti è strana tutta l'esperienza che c'è anche nel fortier dei marty garden sostanzialmente è il contadino che avevamo qua 200 anni fa che si faceva il suo orto bello mirato con il giro la rotazione quadriennale non è che l'hanno inventata là solo che noi la consigliamo roba insomma da poveri là wow l'utilizzo del motocoltivatore che se tu vuoi vedere è un must facciamo tutto motocoltivatore o a mano li abbiamo inventati noi motocoltivatori abbiamo le aziende più grandi motocoltivatori al mondo quindi a volte c'è da avere solo un pochino più di stima del nostro passato uno dei sistemi che amiamo follemente sono il sistema benedettino di coltivazione i primi orti sono stati quelli fatti nel 600 dopo Cristo dai benedettini dove andavano in piccoli loculi a coltivare tutto e lì avevano tutte le aromatiche le consociazioni tutta la base anche della medicina veniva da lì e quindi tu ti dici sì vado a vedere fuori le varie correnti però più vado fuori a vedere più riconosco che parlano in modo nuovo della nostra tradizione e quindi anche lì riandare a riscommettere dove sul territorio su una serie di varietà e fare le prove perché ci siamo accorti anche sulla rigenerativa portare continuamente compost bellissimo se ora io vado a comprare il compost in giro qua fai conto che portiamo 100 quintali di compost all'anno sono parecchi sono veramente tanti il compost che possiamo andare a prendere è quello di riutilizzo delle varie case o altro fa veramente schifo e povero abbiamo qua il letame veramente ci sono un sacco di maneggi che li usano usano i cavalli per le corse quindi diete mirate tutte giuste quello lì è l'etame di cavallo perché devo andare a portare 100 quintali quando me ne bastano 10 messi in un certo modo e allora riattivi quello che ci manca ma ci arriviamo nel giro di un anno è l'appoggio di un'università cioè riuscire a non andare più solo a naso ma provare a come posso dire a concretizzare che cosa significa quel sapore che mi dice Stefano che quel sapore magari è più vitamina C o D quindi spingi su questo lato qua in modo tale che dopo sia replicabile e soprattutto sia un dato che non funziona solo all'interno di questo sistema ma possa funzionare quindi fare formazione ai nuovi contadini che dopo si rapportano a Bolzano si rapportano in Sicilia nel Lazio in tutto il mondo così si cambia il mondo e noi vogliamo farlo ecco la ristorazione però è il passo per noi obbligato uno perché mantiene l'attività perché ha dei volumi più maggiori e soprattutto perché ha proprio tutto il know-how anche di comandare a trasformare il tutto quindi più o meno ecco l'idea è quella provare a valorizzare tanto la vera sostenibilità si chiama collaborazione esatto quindi riuscire a portare slogan fai il cartello eh però l'ho detto anche in situazioni ufficiali non sei sostenibile se vai a comprare la verdura biologica e poi fai tutto quello che vuoi cioè secondo me sostenibilità è veramente cercare di fare braccio con il tuo territorio in primis ma poi anche con quello che sta fuori dal tuo territorio come stiamo facendo noi adesso cioè non è che dobbiamo fare delle cose strane semplicemente rapportarci e darci dei confronti dei consigli su quello che possiamo fare per migliorare migliorare nel vero senso della parola questo è un po' è un po' l'obiettivo e anche come investimento perché non lo dice lui ma lo dico io quando dovevamo impiantare tutti i cavoli e tutto l'orto dello chef che è il suo io le chiesti dopo guarda che quella roba lì me la devi prendere e per un contadino lavorare due tre mesi in anticipo vuol dire un investimento lo fai se sei coperto anche da una realtà che ti dà quella garanzia lì e non che ti bussa oggi me ne servono dieci domani non ti prendo nulla in questo per noi è stato essenziale se non ci fosse stato Stefano anche a dire sperimentate che dopo capisco io come valorizzare e poi io devo comunicare al massimo per riempire più possibile il mio ristorante di persone che possono apprezzare queste cose perché poi alla fine facciamo tutto questo per chi? per il pubblico oltre che per il nostro territorio però io devo cercare il pubblico che viene a mangiare da me devo stimolarlo in questo modo posso comprare sempre più verdure da lui e così non solo con le verdure ma anche con tutti gli altri generi alimentari cioè è un circolo è un circolo continuo però siamo noi gli attori che dobbiamo spingere sulla comunicazione sull'informazione delle persone perché chiaramente chi è interessato all'agricoltura può venire da te e chiedertelo ma noi possiamo dare queste nozioni gratuitamente a un cliente che viene solo per mangiare bene poi magari quando si rende conto che trova un sapore più intenso dopo che ha mangiato sta bene magari è invogliato a chiederti noi siamo noi che dobbiamo spiegargli questa cosa qua e infatti ho clienti miei che tu non sai ma vengono a prenderti le verdure sì ah bene quindi passando da percentuale certo è giusto è giusto così quindi nel nostro bel territorio stiamo facendo stiamo provando a stimolare al massimo quello che che si riesce tutto facile è tutto nella nostra storia va solo riletta e riscoperta per noi dell'azienda agricola Stato Brado è molto ma molto importante continuare a imparare approfondire sempre di più come riuscire a valorizzare al massimo i nostri ortaggi proprio per questo vogliamo sempre di più attornarci di persone che amano la terra i suoi prodotti e che possono farci crescere e che possono Grazie a tutti